Nel video precedente Sergio Agüero si arriva con la squadra Non lo schifiamo mai Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti per questo nuovo video qui Mirko Siamo di nuovo tornati sulla carriera Invece no perchè al campionato Master Master League chiamatela come vi pare E allora dobbiamo giocare con il Genoa E anche De Gea Però De Gea arriverà a presto Perciò ancora De Santi si Dobbiamo fare la seconda giornata di campionato Più i sorteggi di Champions League Tanta roba ci ha spesso intanto Genoa a Roma E Genoa che la prima l'ha pareggiata Quindi cerchiamo di fargliela per l'altro Allora lo schermo abbiamo fatto tutto pronto per Genoa a Roma Inizio Guarda il suo primo pallone con la maglia della Roma In mezzo in mezzo Ma perchè cazzo? No con triangolo con cerchio No era una hit veramente Eh ancora peggio Merda 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 E allora Felipe Santana? No via 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 Io lo ragazzo Ma mamma mia Gervigno Gervigno si inserisce Gervigno Noo Perinno tu me ha spaccolo Ma dò spaccolo E' buono Tira Come iscia? Oh noo Cristo santo Perchè non ha amato Come isciata? Allora dico per Rossi Noo Noo non uscì così Esci così Noo Noo o in 7.2 e non so come fermarlo se non c'è contro l'altro eh non capito assieme no per cui come cazzo fa il segno a questo madre è pieni diti ma guarda come ha segnato Genova ha in vantaggio al Marassi se l'ottomanzo a centra Pjanic nooo porca madosica oh c'hai ce l'hai c'hai perchè? come faccio? sull'estremo Lengolan stop il destro palo oddio Golan c'è quello leo c'è finievo occhi in mezzo in mezzo per il cun eccolo niente cazzo niente di testa porca miseria no e che falle è un mare che è in mezzo l'ho presa niente finito credo 96 niente finisce qui Genova batteremo 1 a 0 merda vince il Genova che ferma questa Roma con El Kun e adesso andiamo a poter scusateci di Champions speriamo bene la classifica questa è a 4 posti per la Champions non so perchè David De Gea si aggrega la squadra olé finalmente un bel portiere grande Davide e questo si allora e la prossima è Roma Juve che d'altro? riccardo si dà allora annuncio un po' pallone d'ore vediamo un po' Sorteci Fisciate il pallone d'ore vediamo come funziona oh Roma con Chelsea Feyenoord e Alchemer ok una volta diretta così hai ricevuto offerte per cui giochi vediamo un po' ma quando dici sto mercato? allora vediamo un po' Miralem Pianic vediamo quanto offrono no no fine fine ora ora scendiamo il contratto ultimo giorno di finestra di mercato appunto e tra poco ce la paga vediamo un po' chi ha vinto primo Messi secondo Ronaldo e terzi Breivich ok stiamo a meno 3 milioni stiamo sotto serve il botteghino col botteghino quasi rinsanato mamma mia allora adesso ci sarà Roma Juve vediamo se fare un po' di turnover per via che comunque tra adesso ci sarà la Champions League o contro il Chelsea allora questa qui sarà la formazione eh un po' un po' parecchio turnover comunque The Gare tra i pali sono stanchi show my con Terzini Castanmanolas Delossi Strootman Delossi a posto di Nangolan poi Uchan a posto di Piagli Sanabria esordio Sanabria Sanabria a posto del Kunaguer per il Gare della stanchezza forse al secondo tempo metterò anche tutti si parte Roma Juve partiti Uchan eh gioca per Luke Shaw Florenzi la recupera Uchan Uchan Sanabria Tony Tony Sanabria Tiene balla la putta in mezzo Cazzo tutti Strootman tira mezzo in mezzo in mezzo stanno anche risaltatori fuori gioco di Florenzi Le rossi in the box oh no no che ha tolto Turbe entra in aria i Turbe no no oh la palla per Florenzi è fantastica Florenzi buon allora i Turbe dice il primo tempo Donna l'asso mamma mia oddio il bug detestato come l'anno scorso guarda la palla Lorenzi ce l'hai no perché hai crossato non lo so vero il botteghino il botteghino vai per il botteghino no fuorigioco oh wow what sto sbagliando wath wath credo un a 0 io andiamo a fare tutti così se li mettoni c'è anche terra non è possibile no guardate io ma guardo mamma è assurdo posso sentire se ci dai 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 merda vita ma che culo ma che culo ma che culo 2 a 0 e arturo che culo assurdo la chiude qui vi dalla canabria ancora de rossi anielino no ma non è possibile non è fattibile troppo difficile finisce qui 2 0 io valori in più ci ripariamo in cento ci ripariamo in cento e poi abbiamo fatto la c'è anche la c'è tutta roma celsi e qui si faranno i big money con il bottiglietto pure tutto il menù cambiato bello bello adesso andiamo sul romancesi ok tra poco si parte per romancesi tra l'altro alguero dalla parte ivanovic dal lato il kun vuole purgare all'olipide di rom partiti agguero tocca per pianic si parte così guava c'è più al lì che ritorna dopo quattro anni il cammino della roma pianice se ne va subito taglia agguero garai intanto si è preso dal benfica garai il celsi william tra l'altro la ma se soccorre titolare il popolo che abbiamo detto qui metto cosa asa invenuta azotez subito il vantaggio del celsi non c'è noi stessi senza però non c'è stato annorai scurire o però pianicchia tirani c'è succede pianicchia pianicchia uscire non c'è pollo rosso uniretto ora c'è un po' quello ero e come vogliare il porto non sbagliare ecco cazzo il diritto da fuori la fatta fuori oggi il vino la recupera gervinio il voto il cino il calcio tutto aquaro tira agguero no 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 non è possibile non fa parte sicura c'è l'ignor non ce l'ha parata in mezzo buono agguero ma non ce la prendono male basso fresco io non me non me gira niente perdiamo anche questa partita purtroppo erano altri sconfitti e non segniamo ci serve un esterno buono ci serve una punta davvero per fare a vero e non si chiara fare vabbè arriva avanti ci stiamo venendo di mezzo alle spalle senti a guerra coltivo in mezzo alla squadra reale ha perso anche il real con con liverpool e' una sega cazzo spero che il video vi sia piaciuto vi ricordo lasciate un commento un mi piace e iscrivetevi al canale questo sarà il programma del prossimo video vi lascio anche la pagina di facebook pagina di facebook nel prossimo video vi vedrete la prima volta con l'Ellas Torino poi annuncio selezion bè e Sampdoria e poi vabbè nel culo ancora c'è una centros league e poi c'è il buono che sarà una scala di sere più in Italia comunque se questo ti ha piaciuto lasciate un mi piace un commento bello ciao 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 Grazie a tutti